Presidente, nel giro di pochissimi giorni a cavallo del Capodanno, il nuovo CDA e il nuovo direttore sportivo, come è nata la scelta di De Vito? Allora, abbiamo scelto Vincenzo perché tra i tanti curriculum analizzati era quello che poteva obiettivamente ricoprire il ruolo che cercavamo. Unitamente alla presenza di Roberto Muzzi era il collante che fisicamente oggi può dare e può portare il risultato sperato. Noi abbiamo fatto una scelta dirigenziale ma anche tanto di cuore, sappiamo la storia e il curriculum di Vincenzo, ne siamo convinti, come eravamo convinti e tuttora oggi convinti di quello che è e rappresenta Roberto Muzzi per noi. La società c'è, rimane e si impegnerà fino all'ultimo per poter raggiungere insieme il risultato che ci siamo previssati. Il mercato aperto, domenica si va a Ravenna per uno scontro diretto, intanto come stanno andando questi primi giorni di presidenza? Questa nuova esperienza dà tanto, dà tanto a me come persona perché sono nuovo, sono sicuramente nuovo del settore, però faccio del mio meglio, cerco di dare il più possibile, è una realtà molto impegnativa, non è una semplice società ma ci sono tanti cuori, tante teste da gestire e l'obiettivo è far sta bene tutti. Oggi ahimè abbiamo un surplus nella squadra, in realtà magari poco funzionale al nostro obiettivo, che però verranno ricollocate senza creare alcunissimo danno a nessuno.